Abbiamo cucinato pasta d'ultranza, abbiamo fatto una ventina di cotture e abbiamo offerto la pasta che poi è stata offerta da te a tutti gli ospiti, circa 250 persone. E quello che posso dire è che la pasta ha retto la cottura in modo eccepibile, perché poi avendo un solo fuoco, avvicinarla quasi al brodo e tra la fine diventare la pasta asciutta, una cosa introponibile per un tipo di pasta normale. Invece è venuta buonissima, però per la tua abilità, non è la pasta. No, 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 e soprattutto la pasta, perché abbiamo tentato questo esperimento che è la prima volta che lo faccio, perché già è la pasta asciutta, è la pasta asciutta, invece questa era la pasta asciutta in brodo, che poi alla fine si è rilevata una vera e brodo, la pasta asciutta, mantecata, con tutto l'amido di piccaccia, questa pasta è straordinaria, assorbe l'acqua in maniera eccebibile, quindi, grazie. Grazie a te, grazie. E aspettiamo altra pasta per la prossima serata. Sarà un piacere, veramente un piacere enorme. Anche per l'aggregazione dei figli avvici.